buongiorno a tutti i nostri clienti vi vogliamo comunicare che a partire dal lunedì 4 maggio saremo operativi con l'officina quasi al 100 per cento nel senso che l'officina funzionerà regolarmente saremo in tre meccanici per riparare le vostre bici però l'orario al momento sarà ancora un raro ridotto quindi saremo io ci sarà edoardo ci sarà matteo che rientra solo lì l'orario sarà a 9 11 e 45 al mattino e 15 18 45 al pomeriggio sarà sicuramente consigliabile avere una prenotazione fare una prenotazione anche telefonica per riuscire a darvi un servizio un pochino più efficiente con la prenotazione riusciamo a essere più o meno veloci un giorno per l'altro senza prenotazione se arrivate in troppi purtroppo rischiamo di essere ingolpati partiamo già un po' ingolfati questo breve video per farvi vedere come sarà la procedura di ingresso in negozio vi chiediamo la massima collaborazione per venirci incontro e per mettersi tutti quanti in sicurezza sia noi che lavoriamo sia voi che venite a visitarci vi ringrazio e vi faccio subito un piccolo video per farvi vedere come comportarsi nella nostra tessuta una volta scese le scale che accedono all'officina potete notare sulla sinistra ci sarà il transito vi chiediamo di rispettare la distanza come indicato dalle righe gialle c'è lo spazio per una persona con una bicicletta l'ultima persona che sarà in questo punto prima del bancone dovrà attendere che sia libera la postazione potrete appoggiare le biciclette di fianco al bancone arrivare al desk dove Edoardo Matteo o io Marco li potremo accogliere per la prenotazione della bicicletta una volta fatto la procedura lasciate la bicicletta qua sarà nostro compito prenderla in carico e vi chiediamo gentilmente di procedere seguendo le frecce verso l'uscita di sicurezza che normalmente è l'uscita di sicurezza quindi da questa parte qua potrete uscire dal negozio in tutta sicurezza mantenendo un senso unico per evitare di trovarsi con altre persone in spazi ristretti l'uscita sarà qua e sarete liberi di uscire tranquillamente dal negozio sul retro dove da questa parte sarete in corso battaglione e potete tranquillamente rientrare a casa ecco come ovviamente sarete ormai purtroppo abituati noi dello staff saremo tutti equipaggiati di guanti e mascherine chiediamo a voi cortesemente di fare come Edoardo quindi indossare sempre la mascherina preferibilmente anche i guanti e di mantenere comunque i due metri di distanza interpersonale quindi quando arrivate qua a parlare con noi cerchiamo di comunicare attraverso il plexiglass che abbiamo installato al desk piuttosto che appunto rispettare il senso unico nel negozio per evitare di incrociarsi con altri clienti eventuali e riuscire a essere tranquilli di non di non fare danni noi speriamo di servirvi al meglio anche in questo periodo un pochino critico e facciamo del nostro meglio per sistemare le vostre bici e lasciare che sia possibile divertirsi nei boschi come al solito grazie a tutti e ci vediamo presto in negozio grazie a tutti grazie a tutti